Ciao, ti diamo il benvenuto su Storace Wine, la tua emoteca online di fiducia. Io sono Valentina, io Roberto e siamo i somminieri ufficiali di Storace Wine. Storace Wine è l'azienda italiana che si occupa della distribuzione di vini, champagne, liquori e distillati. Proprio così Roberto, infatti potrai scegliere tra centinaia di prodotti ed effettuare il tuo ordine comodamente da casa tua. E infatti è semplice, basta cliccare sulla bottiglia, aggiungere al carrello, inserire i tuoi dati e scegliere il miglior metodo di pagamento per te più comodo. Provederemo a confezionare personalmente il tuo prodotto nelle nostre cantinette, tanto forti da proteggere il tuo prodotto da qualsiasi urto. Le cantinette verranno poi inserite in un cartone a trimostrato, per far sì che il tuo ordine arrivi in condizioni impeccabili. In sole 24-48 ore lavorative il tuo ordine sarà a casa tua. Puoi richiedere il codice di tracciamento cliccando sul tastino WhatsApp presente sul nostro sito. Ci sarà la nostra assistenza ai clienti che vi risponderà il prima possibile. Insomma, supporto qualità, velocità e sicurezza. Da Storace Wine è tutto, alla tua salute.